Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Napoli come Firenze, più di 10.000 sardine. Martigiano, portami via, che mi sento di morire. Il vostro entusiasmo, la vostra numerosa partecipazione, mi fa nutrire una speranza. Per me, per mia figlia, per i miei alunni e per tutti voi. Scendevano in piazza le persone per dire, noi ci siamo, ci contate, esiste un'Italia che non è d'accordo con voi. Esiste un'Italia che non è d'accordo con le destre, populiste e sovraniste, che alimentano l'odio, che sono intolleranti. Che domani non si dica che i tempi erano scuri perché noi abbiamo taciuto. Vengiamo onore agli spugnizi di Napoli. Martigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io voglio da Martigiano, tu mi devi sempre lì. Ecco perché è importante che Napoli scenda, perché se l'estrema destra va al potere, a rimettersi sarà prima di tutto non solo la democrazia, ma anche il sud Italia che verrà abbandonato a se stesso. Quando una donna di 90 anni, anziana, sopravvissuta ad Auschwitz, in Italia ha bisogno di una scorta, ma questo risultato da dove arriva? Ma ci pensiamo ogni giorno. Illuminiamo Napoli! Als' la donna di 90 anni, anziana, sopravvissuta ad Auschwitz, in Italia ha bisogno di una scorta, Matteo si aggira per questi mari ma qui sardine con l'amo piglia le sardine sono magnolo Capito le sardine ci sono e siamo tutti qua in piazza a nuotare grazie a tutti